La relazione tra Mila e Cirrus e Liam Emsworth si è conclusa otto mesi fa. L'attore non ha apprezzato particolarmente la svolta sexy dell'ex, Anna Montana, e all'ennismo eccesso, ha deciso di proncare con lei. Il giovane, però, sembra essere ancora nei pensieri della cantante. Alcuni giorni fa, durante uno show condinese, Mila e Cirrus si è sfogata contro il suo ex che, a suo dire, le avrebbe spezzato il cuore. Certo, non ha avuto parole gentili per lui. Prima di lanciare la canzone, King Bal, infatti, ha dichiarato. Ogni volta, che sali sulla tua macchina, sei destinato a sentire la mia foto asterisco 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 canzone alla radio, pezzo di mer asterisco asterisco asterisco. È proprio così. Dunque voglio dire a tutti quelli str asterisco asterisco asterisco, che mi hanno spezzato il cuore, specialmente a uno di loro, di succhiare il mio gigantesco c asterisco 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 mentre ascoltano questa canzone, per il resto della loro vita. Se la saggezza popolare vuole, che l'odio, sia un sentimento molto vicino all'amore, non sorprendono le dichiarazioni, che una fonte ha rilasciato a U.S. Magazzine. A quanto pare, il cuore dell'ex, Stellina Disney, batterebbe ancora, per la Mansworth. Il sito d'informazione, infatti, afferma. Una parte di lei vorrebbe tornare insieme a lui. È rimasta da sola. La fonte ha spiegato, anche le motivazioni alla base dello sfogo, che Mila e Cirrus ha avuto, nel corso di quella tappa del, Bunger's World Tour. Mila stava provando ad ottenere una reazione da parte di Liam. Le manca. L'attore, dal canto suo, sta provando ad andare avanti, a voltare pagina, e ricominciare. Vuole stare alla larga dalle sue tragedie. Sta uscendo, con altre ragazze. Dato il forte legame, che li ha uniti in passato, non è da escludere, che i due possano tornare insieme. Una cosa è certa, Mila e Cirrus dovrà darsi da fare un bel po', per riconquistare il cuore dell'attore. Chi se ne frega.